ciao ragazzi ho trovato in salto questo smalto color cocktail di gamberi ora lo metto su tutte le unghie che fai al buio sto facendo un video di suoni rilassanti inquietante mi piace sentite come si stende bene lo smalto grazie mille ma ora potresti levarti dai piedi bene torniamo al nostro smalto lasciatevi cullare dal suono dolce di 200 volt solo un momento cosa ti avevo detto ridammelo no no a quanto pare qualcuno ti ha rubato la cena sai che questi smr sono più inquietanti di quanto pensasse e per oggi è tutto ragazzi volete ancora ops lasciate un like iscrivetevi al canale cliccate qui per vedere il prossimo video e dite ai vostri amici di farlo perché devo sussurrare